Dopo l'insediamento della nuova giunta comunale a Retessa è il momento di scendere in campo, è proprio il caso di dirlo per gli assessori chiamati all'Opera che si troveranno di fronte, immagino, a tanti problemi. Mai affermazione più indovinata quella di scendere in campo per il nuovo assessore allo sport Marco Cicchitti che proprio in questi giorni ha fatto un po' una perlustrazione su tutti gli impianti sportivi cittadini e si è fatto già una prima idea sul cosa fare. Buonasera, sì appunto come dicevi tu Antonio ho fatto giorni fa proprio una ricognizione sugli impianti per vedere un po' l'esistente, quindi quello che mi trovo a gestire insomma in questi cinque anni di questo assessorato allo sport. Io volevo approfittare del tuo mezzo per ringraziare l'assessore precedente allo sport l'amico Menna, l'attuale Presidente del Consiglio, per come ha saputo lavorare negli anni passati. Sicuramente il mio compito non è un compito facile perché abbiamo trovato anche una situazione soprattutto per quanto riguarda gli stadi che abbiamo e le palestre che abbiamo noi sul territorio del comune della città di Atessa, ma sicuramente è un compito che mi piace affrontare come nella mia persona amo affrontare i problemi sempre al massimo, quindi dedicherò a questo settore il massimo che posso avere, che posso dare. Tra i primi interventi che pensi di poter effettuare quali saranno? Sicuramente il primo posto è l'intervento qui allo stadio di Fonte Cicero per dare un'adeguata sistemazione agli spogliatoi e quindi che mostrano segni evidenti di un duro lavoro perché proprio questo stadio è stracolmo di attività, quindi merita un occhio di riguardo. Poi ci sono le palestre che sono, anzi io faccio un appello a chi usa questi spazi di tenere molto al decoro e di chiedere ai ragazzi che magari fanno del vandalismo di non farlo perché poi questo costa molto alla collettività. Grazie